camilla prini battitrice d'asta qual è il suggerimento al risparmiatore oggi che vuole investire in arte allora di informarsi molto bene quindi di fare di andare per gallerie guardare su internet gli artisti da chi vengono supportati eccetera e farsi dare dei consigli da degli operatori specializzati che possono essere appunto gli specialisti come sono io i galleristi eccetera ma di non fare acquisti troppo d'impulso se lo scopo è quello di comprare per un domani rivendere quindi avere una rivalutazione dell'opera comprare non è facile ma è abbastanza avvicinabile vendere invece per vendere è molto semplice basta dare un colpo di telefono inviare una mail con le fotografie e le misure dell'opera le informazioni sull'opera noi diamo una stima d'asta che è come dicevo prima composta da una forbice quindi da una stima minima una stima massima che secondo noi il valore di mercato di quell'opera e poi mettere in asta batterla e incassare dopo l'asta come si gestisce nel momento dell'asta l'emozione quando le cifre cominciano a diventare ragguardevoli come si gestisce l'emozione in qualunque contesto cioè facendo dei dei bei respiri rimanendo molto concentrati perché ci va niente che perdi che perdi un'offerta e magari fai cadere il martello quando invece magari il prezzo poteva salire come come si gestiscono le emozioni in generale con la testa e oggi qual è il consiglio per un investimento non milionario un nome di un artista allora beh Irma Blanc secondo me è un artista che in questo momento ancora costa poco e si può comprare bene un artista un altro artista per me fantastico e che sicuramente tornerà a essere ad avere delle quotazioni alte come aveva fino a cinque dieci anni fa è De Pisis che è un sapete chi è Filippo De Pisis è stato uno dei più grandi pittori del novecento italiano e che per vari motivi negli ultimi anni gli è mancato un po' di supporto a livello del mercato ma sta risalendo e trovi delle opere che sono dei capolavori ma veramente dei capolavori a poche migliaia di euro o poche insomma sotto le decine e che sono quasi certa che nei prossimi anni si rivaluterà